Vossen che è un attaccante 89 del Genk è sempre più vicino al Pescara e oggi è stato ufficializzato al Torino l'arrivo ma già si allenava da tempo di Brighi dalla Roma Edoardo Venturi mi dice ti voglio a Ternia fare il giornalista qualche notizia sulla Ternana qui Luca Marchetti è arrivato Meccariello l'ultima notizia nel gran mercato che ha fatto la Ternana che ha rivoluzionato la squadra ha comprato Botta che negli ultimi 4 anni era stato a Vicenza era svincolato e ha firmato un contratto credo di due anni Luca Marchetti poi magari mi correggerà credo di due anni proprio con la Ternana ma magari adesso non ci sento di domenica, di sabato 6 12 sì e poi attenzione perché aveva quasi chiuso con il Catania per Catellani ma c'è la concorrenza in questo momento del Sassuolo va bene Peppe dopo aver modificato liberi di chiedere a inchiocciare credo di bello direi che abbiamo fatto tanto stasera grazie davvero ma tu lo fai per far crescere i tuoi formi non è vero ma che ne ho pochissimi ci rivediamo no? grazie a tutti